La Casa Integrazione mette le ali in Emilia Romagna e Rimini ancora una volta fa segnare i numeri record. Tra marzo e aprile, secondo i dati raccolti dalla UIL, in regione la CIG è lievitata del 61,2%, con la città malatestiana che addirittura ha fatto registrare un più 69,7%, dunque bene al di sopra della pur ragguardevole media emiliano-romagnola. A trenare ricorsa la Casa Integrazione e l'edilizia, più 1.407% di ore autorizzate. Sul piano regionale la CIG è salita in un mese da 5.616.752 ore autorizzate a oltre 9 milioni. Numeri che preoccupano il sindacato. Secondo la stima del centro studi UIL, infatti, dal quadro emerge come ci siano 20.226 lavoratori in più rispetto al mese scorso che stanno usufruendo di questo ammortizzatore sociale. Si è passati dai 33.040 di marzo ai 53.266 di aprile. La Casa Ordinaria cresce del 52,9% mentre quella straordinaria del 179,5%. Andando poi nel dettaglio provinciale, la realtà che ha registrato il maggior aumento di ricorso alla CIGA e Piacenza, seguita da Ferrara, Rimini con il suo più 69,7% e quarta. Fanalino di coda in questo caso, il dato è positivo, è Reggio Emilia che addirittura fa registrare un calo del 2%. Edilizia in difficoltà, ma non solo, almeno a Rimini, nella città malatestiana. Si registrano infatti un più 15,3% di ore di cassa integrazione nell'industria, un più 339% nel commercio e addirittura un più 356% nell'artigianato. E questo a dimostrazione del fatto che non c'è al momento un settore in grado di sfuggire completamente alle difficoltà occupazionali che stanno attraversando da troppo tempo il nostro paese.